Raffica di furti tra Bassano e Romano, prese di mira decine di garage interrati, stesso il modus operandi, un taglio sulla lamiera del basculante all'altezza della maniglia e il gioco è fatto. Spariti attrezzi, biciclette e anche generi alimentari, la gente è sempre più preoccupata e spaventata. Siamo stati nella zona residenziale di Piazzetta Cacornaro a San Vito, area presa di mira le scorse notti. Sono già venuti, hanno già tentato di aprire alcuni garage ancora l'anno scorso, sono già venuti più di una volta qui. Abbiamo avuto anche sulle porte centrali, qua ad entrata, degli tentativi di scasso, anche da questa parte qua, appartamenti dove sono entrati i ladri e hanno fatto anche dei danni, sia su questo condominio, su questo e anche sull'altro là di fronte. Siamo tranquilli, tanto è vero che adesso abbiamo parlato anche con l'amministratore e con il consiglio dei condomini, vedremo anche il da farsi perché qualcosa dovremmo fare. Ogni due per tre qui c'è gente che arriva, come facciamo? Situazione che non sembra migliorare. Ma no, anzi sta peggiorando, sta peggiorando ultimamente l'anno scorso, poi è stata una cosa incredibile. Tra le vittime è anche la presidente del quartiere San Vito, Sandra Loredana Zarpellon, che oggi pomeriggio ha sporto denunce ai carabinieri di Bassano e rivolge un appello ai cittadini. La preoccupazione è che non tutti qui hanno fatto denunce, ma in tanti altri casi, anche a San Vito, non hanno fatto denunce. L'importante è che la gente capisca che denunciare, anche se è banale il furto, è importante alle forze dell'ordine. C'è molta paura, questo sì, perché non si è più sicuri a nessuna ora del giorno. Succedono di giorno, di sera, tarda sera, cercano proprio l'oscurità, luoghi dove non possono essere visti dall'esterno e comunque con vie di fuga. Quindi fanno uno studio, secondo me, del territorio. Si può dire che vi sentite in balia dei criminali? Sì, molto in balia dei criminali.